Nell'episodio precedente Vivo dallo gas e la lastra È una moto che o fai tutto perfetto, perfetto O se provi a forzare qualcosa, sbagli Ma in gara sei capace di farla bene Ciao raga, domenica e anche oggi Mondiale Superbike E' inguidabile, una roba è inguidabile Davanti nessuna sicurezza Appena forza la curva, davanti si chiude Freno motore, entro in curva Cazzo, si blocca dietro a gas chiuso Penso nel piegato Ho bisogno di un appoggio dietro per montare Dietro a scivola Alla 1 non so come devo fare E' impossibile andare a volare in questo moto Non è possibile Cioè, fremo Vado dentro, fremo e spinge Vabbè, ci prendo le misure E a un certo punto capisco come devo fare Comincio a inserire Alla 1 vado dentro Quando sono già piegato Mi blocco il posteriore Mi faccio rivoltare Non è possibile Ma poi Ma poi quando esco dalle curve Allora, mi passa bautista Mi passa Stacca abbastanza forte per passarvi Arriva tutto di traverso Piega Gira E apre Io apro come lui Ok La prima parte di grip In qualche modo Riesco a gestirla Lo sento Riesco a gestirla Poi a un certo punto Dico Vabbè, ok Rialzo leggermente Spalanco Quando spalanco A un certo punto Va Poi a un certo punto Fa Ma quando ha già cominciato a saltare Cioè Io sono già in appoggio Il grip della gomma Non è più un problema A un certo punto Fa questo E dopo me lo porto dietro Il problema è che Ok, bautista Ci può stare Che abbia il grip di noi Ma anche la parte Ma anche gli altri Sì, so Tutti Ma quello Cioè E il meno Il più è che In questo momento Io vado dentro le curve Qua Entro dentro Ieri arrivavo Frenavo e ci arrivo La accompagnavo dentro Anche con velocità E più o meno ci stavo Oggi vado dentro E divo Sempre che devo cadere Da un momento all'altro Sì Con questa figura Stare qua Indigabile Proprio No, allora Lì si vede la vibrazione Buono Il turno di warm up Serve proprio a questo A provare delle soluzioni Di setting nuove Per risolvere i problemi Del sabato In questo caso La direzione presa Non va bene E quindi Per la Super Pole Race Si torna indietro Gara interrotta anzitempo Per incidente Tra Lecone e Petrucci Alla Quercia E nonostante Abbia fatto una brutta partenza Luca ha fatto Tutta la gara insieme A Rabate Vignales Per una battaglia tutta Tra Kawasaki private Loro hanno L'uscita del carro E l'entrata Della Misano 2 Che va nel 2 In frenata Freno Allora Rispetto a loro Abbiamo un piccolo gap Quindi a centro curva A centro curva Farò bruttare E anche C'è un'appertura E' un'appertura Un'appertura E' un'appertura Da l'altra forte Viene A questa serie E Davanti non è sicurissimo C'è sempre un po' di movimento Movimento o vibrazione? Più vibrazione Non come stamattina Centraiglione Ero un po' al gancio Con loro Che stavo tirando Che stai ripropando Però Anche loro tiravano Anche loro tiravano Però secondo me Ad avere l'occasione Rabatto non lo so Ne ho un po' di più Vignales Sì Si è trovato anche un po' il rabatto Differenza? Più Frenna più piano Però poi alla fine Mi fermo Ma Devo frenare così Perché se io devo voltare Centra curva La moto volta meno E soprattutto anche quando Apre il gas È un po' diverso Cioè lui riesce A andare via un po' meglio Io invece Guarda che già Al sesto o settimo giro Adesso cominciava a cedere Un po' la gomma Un pochino Però Però meno di loro Secondo me Perché Rabatto è venuto A prenderci bene E poi dopo si è fermato lì Però Rabatto Quando era dietro di voi Ha fatto un 35 e mezzo Uno, due, 35 Sì Quindi è venuto a prendere Infatti quando era lì davanti Diceva adesso Allunga per come era passata Invece poi stava lì Anzi Faceva anche qualche errorino E invece la partenza Malissimo Io scuotevo la testa Perché nella prima partenza Mi si è riattivato il took limiter Pensavo che ci fosse di nuovo Il problema di ieri E poi quando sono partito Non va la moto La partenza non è assolutamente andata Cioè non funzionava il launch No no Il launch funzionava Ma poi quando mollo Stacco per partire Non va E per gara 2 Hanno lavorato ancora Sulla moto Per cercare di dargli Quello che mancava Ma non ha portato I risultati Desiderati Quindi Luca ha valutato Che non valesse la pena Rischiare una facciata in terra Per le ultime posizioni E dopo 10 giri Si è ritirato Quello che secondo me Ho imparato da questa lezione È che come comunque Vero male già sapevo Cioè tante volte La moto fa il pilota Nel senso Tu guarda Rabat In questo momento Non è considerato uno veloce Da dentro io ti posso dire Che invece guida forte Guida forte E secondo me è andato bene Con quella moto Poi non lo so Magari è anche uno steppettino Più avanti della nostra Non lo so Comunque Quello che voglio dire È che Misano Io la conosco come casa mia So cosa devo fare per andare forte So dove devo passare So come si fa Ma se non lo puoi fare Non lo puoi fare Se la moto non te lo permette Dici Se la moto non te lo permette Non lo puoi fare Finché c'è la Q Che ha tanto grip Riesco a stare con gli altri E la moto si muove normalmente Nel momento in cui Mettiamo una gomma come le altre Oggi è stato clamoroso Ma anche stamattina Stamattina è stato incredibile Cioè io entro per il warm up Sensazioni mai provate prima Nel senso Con una moto che Freno Vado dentro la cura Comincia a vibrare tutto Comincia a vibrare tutto E mi si chiude Senza neanche che io Stia spingendo particolarmente Ma adesso in gara è uguale Da telemetria Stesse cose E non c'è grip Peccato Poteva essere Dovevo divertirmi Poteva essere più divertente No? Invece quando è così Insomma ti diverti Fino a un certo punto Chiaro Vieni a Cavallelunga? Non ci sono Sono in Pernoni Che merdas Per lui poi purtroppo La scivolata Si chiude La sua gara E poi il contatto Tra Vitali e Del Bianco Visto? Allora sei bastardo E pignolo Dio Che merda Grazie.